Regoletio Express 2569 di Trenord, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, nelle ore 14.32, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Brenna Esino, Leco, Monza. Trenord, proveniente da Tirano, è in arrivo al binario 2.32, è in arrivo al binario 3.32. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.